Io so leggere il pensiero, o meglio, io so anche prevedere il futuro. Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sulla probabilità oggi andremo a vedere come calcolare la probabilità matematica. Quindi nel corso di questa lezione vedremo come calcolare il numero di casi possibili in un evento aleatorio, calcolare il numero di casi favorevoli per un evento aleatorio e infine vedremo come calcolare la probabilità matematica di un evento aleatorio. Ma veniamo alla lettura del pensiero. Ora vi propongo un piccolo trucco magico. Vi farò vedere 6 carte da gioco, queste qua, e quello che vi chiederò di fare sarà di scegliere una. Ricordatevi, questo è un video registrato. Ciò nonostante, sarò in grado di indovinare la carta che avete scelto. Quindi, guardate attentamente le carte che vi mostro. Sceglietene una. Pensatela intensamente. Perfetto. Ora, io vi farò vedere lo stesso mazzo da cui avrò estratto esattamente la carta che avete scelto. Ed eccoci al momento della verità. Vi faccio vedere il mazzo da cui ho estratto la carta che voi avete scelto. Pensate di nuovo intensamente. Ricordatevi, questo è un video registrato. Ecco qua. Come noterete, manca proprio la carta che avete scelto. Ora, ci sta che qualcuno di voi conosca il trucco. Sarei tentato di svelarvelo, ma vi consiglio più tardi di rivedere questo video e forse capirete qual è il trucco. Perché chiaramente di trucco si tratta. Il motivo per cui parliamo di carte è che i giochi d'azzardo, come ho già detto nella lezione precedente, quando ho introdotto il concetto di eventi aleatori, è il classico caso che si usa a scuola per spiegare il concetto di probabilità matematica. Ora, se da un lato è molto chiaro il concetto dei dadi da gioco, soprattutto del dado classico a sei facce, a volte il concetto delle carte da gioco e soprattutto dei diversi mazzi può essere un po' complesso. Quindi, giusto come introduzione, volevo chiarire alcune cose riguardo a quello che è considerato il mazzo classico, ovvero il mazzo di carte, cosiddetto francese, che è poi quello che si usa per esempio per la scala 40, il ramino e così via. Allora, il mazzo di carte francese è composto da 52 carte, chiaramente togliendo i giolli. Queste 52 carte sono divise in quattro simboli o semi, che sono appunto due semi di colore rosso, cuori e quadri, e due semi di colore nero, cioè fiori e picche. Molto spesso si ricorda la filastrocca come quando fuori piove, per capire anche qual è la scala di importanza di questi semi. Quindi abbiamo quattro semi, due colori, e per ogni semi noi abbiamo 13 carte. Di queste 13, 10 sono i cosiddetti numeri, che vanno dall'asso, che normalmente vale 1, ma in alcuni casi vale più del re, però in questo caso contiamolo come 1, fino al 10, e poi le tre figure, il re, la regina, il fante, che normalmente ovviamente sono indicati con le iniziali del termine inglese, quindi K per King, Q per Queen, e J per Jack. Allora, per calcolare la probabilità matematica di un evento casuale o aleatorio, il primo passo è determinare il numero di casi possibili, cioè quante sono le possibilità che abbiamo che succeda qualcosa. Questo è particolarmente semplice quando parliamo di carte da gioco oppure di tiri di dado. Un altro esempio che però qui non è elencato è per esempio il lancio della monetina. Di solito queste sono le tre combinazioni, i tre tipi di eventi e aleatori che si usano poi per spiegare i vari concetti di probabilità. Quindi consideriamo l'estrazione di carte. A questo punto stiamo parlando delle carte del mazzo francese. Quindi qual è il numero di casi possibili? Chiaramente in questo caso è proprio il numero delle carte, il numero totale delle carte che abbiamo visto pochi secondi fa essere uguale a 52. Quindi se io estrago una carta io so che il numero di casi possibili è 52. Questo chiaramente, se non ho già estratto delle altre carte non le ho rimesse nel mazzo ma questo fa parte poi dei concetti di probabilità composta e condizionata che vedremo in lezioni successive. Nel caso del tiro di un dado, quindi nuovo di un dado classico, non del dado del Dungeons & Dragons a 20 facce, il numero di casi possibili è il numero di facce, quindi il numero di facce nel mio dado che è 6. Quindi questi sono due esempi di casi possibili per un evento aleatorio. Il secondo passaggio nel calcolo della probabilità matematica è a questo punto determinare il numero di casi favorevoli, cioè il numero dei casi dell'evento che sto cercando. E di nuovo facciamo due esempi, uno legato alle carte da gioco e uno legato al dado. Quindi il primo esempio è estraggo una regina. Quindi devo pensare nel mazzo di carte francese quante regine ci sono e la risposta è chiaramente c'è una regina per ogni semi, ci sono quattro semi, quindi il numero di casi favorevoli è uguale al numero di regine. Oppure se volendo uno potrebbe fare una lista di regina di cuore, regina di quadri, regina di fiori, regina di picche. Comunque io scrivo qui semplicemente numero regine. Di nuovo, io sto considerando il caso in cui ho un mazzo in tonso, cioè un mazzo completo. Ok? Più avanti vedremo cosa succede se ho estrazioni successive e non vado a rimettere le carte nel mio mazzo di partenza. Quindi abbiamo quattro regine. Consideriamo il tiro del dado. Qui invece dico esce un numero dispari. Allora a questo punto devo pensare ai numeri che ci sono sul dado da gioco. Quali sono i numeri dispari? I numeri dispari sono 1, 3 e 5. Cioè sono la metà dei numeri che ci sono sul dado. Quindi è un po' brutto scrivere il numero di numeri dispari. Io scrivo numeri dispari e di nuovo io potrei fare una lista dei casi possibili e dei casi favorevoli, scusate. Ok? Quindi i numeri dispari sono in tutto 3. ecco, a questo punto siamo pronti per calcolare la probabilità matematica. A questo punto possiamo come anticipato poi nella lezione precedente possiamo dare veramente una definizione sotto forma di formula di che cos'è la probabilità matematica. Quindi leggiamo insieme la probabilità matematica di un evento aleatorio che chiamerò E maiuscolo come appunto evento è definita come il rapporto quindi la divisione tra il numero di casi favorevoli e il numero di casi possibili. Quindi vediamo di scriverlo proprio trasformiamo questa frase in una espressione in una formula dove probabilità chiaramente indicherò con una P una P minuscola tra parentesi scriverò l'argomento di questa probabilità che è appunto il mio evento E poi vedremo in casi successivi quando faremo la probabilità composta eccetera qui dentro dovremo tenere conto appunto anche di altri eventi ma per ora abbiamo un evento solo ok quindi è uguale al rapporto quindi disegno più o meno dritta una linea di frazione e scrivo sopra numero casi favorevoli cioè quelli che interessano a me favorevoli e sotto devo scrivere il numero di casi possibili ora è chiaro ragazzi che in qualunque momento il numero di casi favorevoli non può essere di più del numero di casi possibili cosa significa questo? che la probabilità matematica sarà sempre un numero minore o uguale di A1 ok e poi tra poco vediamo un po' cosa significa i vari valori cioè sarà sempre un numero compreso tra 0 e 1 quindi sarà più delle volte 0 virgola qualcosa poi lo possiamo scrivere come frazione ma la cosa più importante poi sarà trasformare questa frazione in percentuale normalmente noi esprimiamo una probabilità sotto forma di percentuale ricordandosi bene che un rapporto uguale a 1 equivale a dire una probabilità del 100% e una probabilità insomma un rapporto uguale a 0 significa una probabilità dello 0% andiamo quindi ad applicare questa formula nei due esempi che abbiamo visto finora ovvero quello dell'estrazione di una regina qualsiasi appunto da un mazzo di carte francesi e l'uscita di un numero dispari dal tiro di un dado quindi andando a ricordarci che cos'era quali erano i casi favorevoli in questo in questo primo esempio quindi scriverò che P è uguale a 4 perché questo è il numero dei casi favorevoli diviso 52 non non è il caso di lasciare uno può anche lasciarlo in realtà sotto forma di frazione non semplificata perché diciamo rende più esplicito il numero di casi possibile però quando si può facciamolo quindi dividiamo e non mi stupisco nel vedere che questo è 1 su 13 perché chiaramente ho una regina per ogni seme quindi la probabilità è 1 su 13 di nuovo questo numero lo posso lasciare così lo posso trasformare in un decimale o ancora meglio lo posso trasformare in una percentuale in questo caso avrà un numero inferiore al 10% nel caso di esce un numero dispari qui i calcoli sono decisamente più semplici perché ho 3 numeri dispari su 6 numeri totali semplifico viene un mezzo e qui ci vuole poco per capire che questo vabbè con il decimale è 0,5 ma soprattutto ma soprattutto come percentuale questo è il 50% perché appunto la metà dei numeri sulla faccia di un dado sono numeri dispari per concludere un po' come avevo già accennato all'inizio di questa lezione possiamo dire le seguenti cose riguardo agli eventi probabili certi impossibili cioè un evento qualsiasi la sua probabilità matematica sarà una frazione propria in cui appunto il numeratore non potrà essere maggiore del denominatore qui sto parlando di un evento qualsiasi quindi non di un evento certo la probabilità di un evento certo invece è una probabilità in cui il numero di casi possibili è uguale al numero di casi impossibili quindi la probabilità non può essere 1 ovvero il 100% infine la probabilità di un evento impossibile quindi un evento in cui il numero di casi favorevoli è 0 rispetto al numero di casi possibili appunto questa probabilità sarà 0 che trasformata in percentuale è lo 0% nelle prossime lezioni andremo a vedere cosa succede quando a questo punto invece di un unico evento andiamo a considerare più eventi allo stesso tempo ma per oggi è tutto arrivederci da Mr. Boscherini il vostro lettore della mente preferito grazie a tutti grazie a tutti